Ciao amici, in questo video vi parlerò di Raspberry Pi 3 V Plus, un microcomputer grande quanto una carta di credito. Il Raspberry Pi viene utilizzato dai makers per realizzare diversi progetti, tra cui server domestici, media center, piccoli robot per le automazioni o semplicemente come computer. Vediamone brevemente le caratteristiche. Il processore è un ARM Cortex A53 con clock da 1.4 GHz ed è accompagnato da un gigabyte di RAM di tipo DDR2. Per quanto riguarda la connettività, troviamo una Ethernet con una velocità di 300 Mbps. È presente anche il Wi-Fi in versione Dual Band a 2.4 e 5 GHz. Infine troviamo anche il Bluetooth in versione 4.2. Sulla parte frontale troviamo l'uscita analogica audio-video, il connettore per la Raspberry Pi Camera, l'HDMI ed infine l'ingresso microUSB per alimentarlo. Da questa parte è presente un connettore per collegare un display esterno. Questi pin costituiscono l'interfaccia GPIO. Essi consentono la connessione fisica tra Raspberry e dispositivi esterni, tra cui sensori, motori, pulsanti ed altro. Queste sono quattro porti USB 2.0. Infine, sul lato opposto è presente uno slot per inserire una microSD card che ospiterà il sistema operativo. Per funzionare RaspoBerry ha bisogno di altri componenti che dovranno essere acquistati separatamente. Ho voluto semplificarmi la vita con lo starter kit di A-Box che contiene oltre a RaspoBerry tutto il necessario. Vi lascio il link in descrizione. Adesso procediamo con un rapido unbox del kit. Troviamo una guida rapida Il nostro RaspoBerry Un cavo HDMI I dissipatori da applicare sul processore e RAM Un alimentatore da 5V a 2,5A con interruttore ON-OFF È presente una microSD card da 32GB in classe 10 con il sistema operativo precaricato Ed infine troviamo il case per ospitare RaspoBerry e proteggerlo Adesso vi farò vedere come è semplice assemblarlo ed effettuare il primo avvio Adesso vi farò vedere come è semplice Da stacked Oggi vi farò vedere come è semplice Direttare risalto è semplice Don mettere riscald tutti i denti che il sicante Non mettere riscaldi di arcano Grazie a tutti. Tastiera, mouse, monitor e cavo di alimentazione collegati. Tutto pronto per l'installazione del sistema operativo. Questa è la prima schermata che comparirà sul monitor. Bisognerà selezionare Raspbian, fare clic su Installa ed attendere diversi minuti per l'installazione completa del sistema operativo. Ecco come si presenta il desktop alla fine dell'installazione. Siamo giunti al termine. Questa è solo una semplice panoramica sul mondo della Spberry. Spero vi sia piaciuta. Non dimenticate un like e fatemi sapere attraverso i commenti cosa ne pensate. Vi saluto, ma soprattutto vi ringrazio per la visione. Ciao